Un autore emergente al giorno toglie il malumore di Torno. Ecco perché oggi vi parlo del nuovo libro di Leonardo Manetti. Diversi in prosa, viaggio alla ricerca di me. Leonardo, classe 1981, è un appassionato di tutto quel mondo legato alle viti. Pensate che è laureato in viticoltura e tecnologia ed è un imprenditore agricolo che ha seguito le tradizioni di famiglia. Nasce a Firenze, come vi dicevo, nel 1981. Nel 2014 ha pubblicato Gli occhi interiori. Precedentemente, invece, Schianti. Nel 2017 ha pubblicato Poesie in cucina con le ricette di mamma Cristina e oggi, invece, Diversi in prosa, è il libro che vi consiglio questa domenica. Ve lo consiglio per un semplice motivo, perché è una raccolta poetica molto toccante. A parte che va dalla natura alle persone a tutte quelle emozioni. Poi, in realtà, vi parlo anche delle poesie perché generalmente si dice che sono difficili da comprendere. In realtà non è così. Io consiglio di leggere una poesia, magari a sera, prima di andare a letto e magari anche pensarci un po'. Mi hanno colpito in maniera particolare tutte. Tutte perché, comunque, parlando del tema della natura, non possono comunque non attrarre la mia attenzione. Ci sono anche delle poesie rivolte ai personaggi noti. Quindi, in realtà, trovate anche le poesie rivolte alle vere e proprie persone. Un'introduzione molto interessante, un'impaginazione che, comunque, è fatta molto bene. Diversi in prosa, è stato pubblicato con You Can Print, quindi Leonardo Manetti ha scelto l'autopubblicazione con un pezzo copertino di 12 euro. Ho ricevuto questo meraviglioso libro, insieme a delle cartoline con delle immagini favolose, come potete ben vedere, e anche un segnalibro. Quindi, io vi consiglio Leonardo Manetti, cercatelo su internet, su Google, sul blog di Leonardo Marcella e leggete, poi, se io, ma soprattutto, leggete libri di autori emergenti perché è molto importante. Ciao!